Inglobata la testa Pupone, ma sei bravo? Pistolone Non puoi gestionare, no? Che tanto? Puri accarezzo, puoi schiacciarle, ecco no? Sì, sì, sono bravi Sì, tranquilli, guardaci Basta bene Oh, non è bene Andiamo di là Sì, sì, sì 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 Questo è ferme Ma è buonissimo Sai il testone grosso Ah, questo è un attacco Quello è lì come se... Chi è il mazzo? Grazie a tutti. 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 a tutti.